Cercar Mariola per Ravenna è un modo di dire utilizzato in città da molto tempo, nata a causa di una curiosità presente alla base della torre civica alla quale adesso ci avviciniamo. Qui dove sono presenti dei tiranti e dei pannelli si nascondono dei resti di opere antiche incastonate nella torre, in particolare due ci sono utili per ricostruire l'origine del detto, una lastra figurante un uomo a cavallo e la testa di una statua. Come si può vedere dalle foto il cavaliere è rivolto in direzione opposta rispetto alla statua ed ecco spiegato il modo di dire, cercare Mariola per Ravenna significa impegnarsi nella ricerca di qualcuno o qualcosa che in realtà è più vicino di quanto si pensi. In realtà la Mariola non è più presente da vent'anni perché è rimossa durante i lavori di messi in sicurezza della torre e durante il restauro si è scoperto che in realtà è un uomo, quindi potremmo dire Mariolo. Ravenna in un minuto. Ravenna in un minuto. Ravenna in un minuto. Ravenna in un minuto. Ravenna in un minuto.